eccomi qua salve qualcuno dice la signora titina non si vede più che bello che bello questo è uno sbaglio enorme che si fa questo è uno sbaglio che tante persone pensano che io sparisco non c'è questa cosa va bene non c'è soprattutto per le persone capito soprattutto per i parenti perché per le persone non è che per i parenti capito che sono sempre applicati che taliano tutte cose non sono come me che si fanno gli affari proprio non guardano niente il telefonino lo buttano così non ci interessa loro sono sempre la la che guardano qualsiasi passo se siamo off elane se siamo online ma tutto guardano loro capite quindi c'è da avere paura io c'ho paura da loro perché signori miei non c'è peggio di parenti che non ne possono vedere hai capito sono qua per dirvi ho comprato oggi un nuovo detergente intimo io c'ho usato il letargo e lo sapete il letargo da tanto tempo che dorme ora me lo sento più addumisciuto ora va via vallieggio e c'è scritto doppio estratto di camomilla e signori abbiamo finito di condire l'insalata ok già che quello mio era il letargo ora questa camomilla mi sento proprio non mi sento più addumisciuto dico ma è mai possibile ma come fanno a mettere si forse forse è difficile queste bottigine perché magari l'hanno così come mia figlia Samara cosa ci metto davanti a Ida anzi ora stasera la faccio lavare che è così se c'è addumisciano antiche che l'avevi troppo sveglio Ida hai capito dico ma come si fa a fare la camomilla anche nei capelli signori miei anche nei capelli una volta ho fatto lo shampoo e ce l'ha messo estratto di camomilla in una colluttazione che ha percuna in un supermercato che ammetteranno i capelli chi li ammetterava i capelli ma io non sentivo niente un'anestetica era va bene quindi dico ma perché fare queste cose così veramente che se leggevo anche perché dico io devo cercare di farlo svegliare signori miei se non finio perché se non si sveglia siamo consumati non si sape mai come marito come va finisce capito e che fa la mia vita finisce così sempre a dormire non esiste non esiste ho detto ne parlo con la famiglia stretta del tubo con gli amici del tubo tutti quelli che mi seguono che sono veramente tanti ne parlo con loro perché signori miei voi potete darmi consigli o qualche cosa ma che cavolo che c'è che cavolo intanto intanto come sto sto bene guardate qua vedete anche i capelli ho fatto lo shampoo c'è quando mi vanno chiare c'è quando mi vanno scure signori miei ora mi hanno detto che dipende dalla dall'acqua tra l'altro io ci ho messo la brillantanta dalla lavastoviglie brillantanta calaio ci ho messo pure come bassa ma vuoi dire che sono belle tali come più brillanti di così signori miei assurdo io uso prodotti miei uso prodotti miei io non vado com'è che arrivo a cadere con questo detergente intimo io non lo so che c'è ma si hai tutto là ce l'hai là il detergente ubbè saffa le quanta che è a casa mia è pulitissima sì ce l'hai là quello là sì sì prendi quello ma così ti sa domicione antichia vai vai signori ci vuole quando ci vuole ci vuole una buona serata a tutti voi la titina è tornata è tornata ora non vi non vi lascerà in pace va bene ci saranno sempre video a tempesta perché tutto chi gioca e lì lo dico questa è una mia finestra mia di sfogo perché so che chi mi vede chi sta guardando questo video mi vuole bene strappa un sorriso capito mi stima e quindi questo mi va bene così ok un forte bacio a dopo ciao ciao un attimo che sto venendo